Ubriaco al volante aveva deciso di parcheggiare il tir lungo la corsia di sorpasso a fari spenti per riposarsi un po'. Ad intervenire questa notte lungo l'autostrada del sole sono stati gli agenti della sottosezione della polizia stradale di Battifolle che hanno bloccato il traffico diretto verso Roma al fine di scongiurare gravi incidenti. Due pattuglie sono infatti intervenute attorno alle tre a seguito di alcune segnalazioni. Una volta arrivati sul posto, al chilometro 359 della carreggiata sud, gli agenti hanno trovato il conducente del mezzo pesante, un grosso tir con targa austriaca che dormiva comodamente avendo alzato troppo il gomito. L'uomo, infatti un croato poco più che trentenne, è stato trovato sdraiato in cucetta. I poliziotti hanno subito liberato la strada e riaperto il traffico, oltre a sottoporre il conducente all'etilometro, risultato poi con un tasso di 1,3 grammi per litro. All'uomo è stata immediatamente ritirata la patente di guida e sequestrato il mezzo per tre mesi, denunciandolo inoltre all'autorità giudiziaria. Dal controllo sono poi emerse anche numerose violazioni amministrative riguardanti le modalità del trasporto che comporteranno sanzioni per un ammontare di 9.000 euro.